Non è un segreto che i miei due linguaggi di programmazione preferiti in questo periodo sono Rust ed Elixir. Combinando questi due linguaggi ho scritto la libreria vTransport Elixir per poter scrivere server webtransport in Elixir. Webcosa? Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. WebTransport è un protocollo molto recente che permette una comunicazione real-time bidirezionale tra un client, normalmente un browser, ed un server HTTP3. E a questo punto ti starei chiedendo, questa descrizione mi ricorda tantissimo le WebSocket, che bisogna ho di un altro protocollo? Sono contento che tu me l'abbia chiesto. Vedi, la differenza sta tutta nel fatto che WebTransport si basa su HTTP3. E per capire quali vantaggi questo porta è necessario prima capire su cosa si basa HTTP3. A differenza di HTTP1.1 e HTTP2, che sono basati sul protocollo TCP, che garantisce i dati trasmessi non vengano persi per strada ed arrivino nell'ordine corretto, HTTP3 si basa sul protocollo QUIC, che a stavolta si basa sul protocollo UDP. UDP di per sé non dà nessuna garanzia né sul fatto che i dati che trasmetti arrivino, né nell'ordine in cui questi dati arrivano. Detto così potrebbe sembrare uno svantaggio. Chi non vuole che i dati che trasmetti arrivino e non necessariamente in ordine per giunta? Vedi, ci sono sempre dei compromessi nell'utilizzare una tecnologia piuttosto che un'altra. Se da un lato TCP garantisce l'arrivo ordinato dei pacchetti trasmessi, dall'altro considera che se un pacchetto viene perso per strada, tutti i pacchetti trasmessi successivamente a quello perso non verranno ricevuti finché dall'altra parte non ci si rende conto che è stato perso un pacchetto e che viene chiesta una ritrasmissione del pacchetto perso. Questo fa sì che ci potrebbe essere molta latenza nella comunicazione. Non tutti però hanno bisogno per forza di tutti i pacchetti. Per alcune applicazioni è meglio perdere qualche pacchetto per strada ma aver la minore latenza possibile. Pensa per esempio ad un gioco multiplayer. Il server comunica continuamente lo stato del gioco a tutti i client. Chi se ne frega se io ho perso lo stato di due secondi fa se tanto mi arriva lo stato di un secondo fa più aggiornato. Ecco quindi che ho bisogno di un protocollo che non mi dà le garanzie di arrivo in ordine dei pacchetti ma allo stesso tempo mi riduce notevolmente la latenza. E WebTransport, essendo basato su UDP, mi può proprio dare questa vasta latenza. Tutto molto bello, ma che c'entra Rust con tutto ciò? Un nostro connazionale italiano chiamato Biagio Festa ha scritto una libreria WebTransport in Rust chiamata VTransport. Se ti piace scrivere codice in Rust, VTransport è una validissima opzione per usare WebTransport. Ma se io volessi scrivere, che so, il server di un gioco online ed Elixir? Ecco che la libreria VTransport Elixir che ho scritto personalmente fa il caso tuo. Vediamo come funziona. Non sto a spiegarti come installare Rust, Cargo, Clang, CMake, Erlang ed Elixir perché tanto ci pensa il package manager della tua distribuzione. Una cosa che però voglio installare insieme a te è il tool MKChart. Vedi, un piccolo fastidio derivato dal fatto che WebTransport si basa sul protocollo Quick è che il protocollo Quick richiede per forza che le connessioni siano crittate e quindi anche se fai sviluppo locale hai per forza bisogno di certificati TLS. Il tool MKChart, tanto per cambiare sviluppato da un nostro connazionale italiano chiamato Filippo Valsorda, permette la creazione in maniera molto semplice di certificati TLS per sviluppare in locale. Su .22.04 lo troviamo comodamente pacchettizzato, ma se usi una distribuzione differente che non lo pacchettizza, basta scaricare il binario dalle release di GitHub, essendo un software scritto in Go non necessita di dipendenza, semplicemente lo scarichi e lo esegui. Allora, andiamo a creare la directory MKChart all'interno della nostra home ed eseguiamo mkchart-install per installare la certificate authority. Una volta installata diamo il comando mkchart-localhost-127001-2.1 per creare i certificati per lo sviluppo su localhost. Come vedi, ha creato due file con estensione PEM. Ottimo! Ora però occorre dire al nostro browser, nel mio caso Firefox, di fidarsi dei certificati emessi da mkchart. Quindi, prima di tutto, abbiamo bisogno di sapere dove si trova il certificato principale di mkchart. E per fare ciò, basta dare il comando mkchart-caroot. E vediamo che nel mio caso si trova nel mio home sotto local-share-mkchart. Ora che sappiamo dove si trova il file che ci interessa, apriamo Firefox e andiamo nelle impostazioni. Sotto privacy e sicurezza c'è la sezione certificati. Andiamo su mostra certificati ed importiamo dalla directory, abbiamo visto poc'anzi, local-share-mkchart. E selezioniamo il file rootca.pem. Occhio! Vogliamo il file rootca.pem che contiene la chiave pubblica, non il file rootca.pem che conterebbe la chiave privata. A questo punto, mettiamo il check sulle checkbox per dire a Firefox di fidarsi di questa CA. Ed il gioco è fatto. Se uso un browser diverso da Firefox occorterà fare la stessa cosa, ma su come fare tutto passo passo non te lo so dire. Ottimo! Scarichiamo quindi vtransport elixir da GitHub e diamogli un'occhiata. Ho incluso un semplice echo server nella directory examples vtransport echo. Se andiamo a vedere il file config runtime.xs, vediamo la configurazione del progetto. E ci assicuriamo che i parametri certfile e keyfile puntino ai file corretti. Vediamo inoltre che il server è configurato per ascoltare su localhost la porta 4433 e questo ci verrà utile fra poco. Nel frattempo voglio mostrarti il file connectionhandler.ex, che mostra effettivamente come usare le librerie vtransport elixir. Alla linea 2 vedi che c'è la macro use vtransport connectionhandler, che è quello che fa la magia di questa libreria e mi permette di impostare delle callback per ogni evento che capita. Nota che tutte le callback sono opzionali. In questo file l'ho messa tutto giusto per farti vedere cosa hai a disposizione. Ma se l'unica cosa che vuoi fare è un semplice eco server, come in questo caso, l'unica callback che ti serve veramente è handle datagram, che vediamo alla linea 22. Questa callback, come puoi intuire dal nome, viene chiamata ogni volta che arriva un datagram, cioè un pacchetto non ordinato ed inaffidabile, di cui abbiamo parlato in inizio video. I tre parametri di questa callback sono Il datagram stesso in formato binario, o stringa se si tratta di UTF-8 Una struttura connection, che identifica la connessione da cui è arrivato il datagram State, che è lo stato del modulo Se hai già avuto a che fare con i gen server in elixir sai di cosa sto parlando Come vedi, in linea 23, chiamo la funzione sendDatagram, che indovina un po', invia un datagram al client E come parametri gli passo la connessione da cui ho ricevuto il datagram ed il datagram ricevuto, così glielo le ritrasmetto paro paro In linea 25 diciamo che fare Se continuare a ricevere ulteriori datagram, come in questo caso, diamo la tupla con continue ed il nuovo stato Se volessimo chiudere la connessione, invece, ritorneremo l'atomo close Ottimo! Ora, per eseguire l'applicazione, diamo i comandi Mix-deps.get, per scaricare tutte le dipendenze di cui abbiamo bisogno E mix-run-no-holt, per avviare il server La prima volta ci mette un po', perché deve scaricare tutte le dipendenze dalla parte Rust e compilare il tutto Ma gli AV successivi saranno molto più veloci Quando vediamo nel log Started, Devotransport, Runtime, il server è pronto Ok, per testare il server possiamo andare sul sito webtransport.dei Che contiene un semplice client webtransport E connetterci a, avevamo visto nella configurazione, localhost porta 4433 Per essere sicuri che siamo connessi veramente al nostro server Possiamo vedere nell'output del nostro server dei messaggi del tipo session request e connection request Ecco, questo perché ci siamo veramente connessi a lui Ottimo! Torniamo quindi a Firefox e mandiamo un datagram con su scritto BellaZio E vediamo nel log che abbiamo ricevuto indietro un datagram con su scritto BellaZio Fantastico, funziona Bene, spero tu possa trovare utile questa libreria Magari questo è proprio il pretesto giusto per imparare il linguaggio Elixir se non lo conosci ancora Grazie dell'attenzione Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey Trovi tutti i link in descrizione Al prossimo video, ciao! Di qua, bam, bam Grazie a tutti